Sant'Orso viene colpito in testa da 50 pallini sparati dal fucile di un cacciatore, vittima un ingegnere di 77 anni che raccoglie legna nel giardino di sua proprietà. A sparare, per errore, un cacciatore di schio che subito si è attivato per prestare i primi soccorsi. Adesso l'uomo dovrà sottoporsi a cure per almeno un anno e purtroppo rischia seriamente di perdere un occhio. Sul caso indagano i carabinieri di Piovene Rocchette. Alla guida di un furgone ubriaco e senza in realtà aver mai conseguito la patente. 38enne romeno scappa, non si ferma al posto di blocco dei carabinieri in via Quadri a Vicenza e nella folle fuga per le vie della città, inseguito dai militari, investe un'auto con a bordo una donna incinta. Bloccato, il 38enne è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebrezio e appropriazione in debita. Schio riconosce su un sito di vendita online la bicicletta del valore di 1000 euro che gli hanno rubato e tende una trappola al venditore, un ventenne di tiene. Il proprietario contatta il venditore, gli dà appuntamento alla stazione dei treni della cittadina sclerense ma allo stesso tempo avvise i carabinieri che circondano la zona e bloccano il giovane che viene denunciato per ricettazione.